Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo questa maglia che attendevamo da tanto. Questa è la terza maglia del Barcellona per la stagione in corso, in edizione FAN. Grazie a tutti. La maglia non è niente male, è fatta molto bene con degli ottimi tempi di consegna. Devo dire che il Barcellona da quando è partito Messi ha perso un po' del suo fascino, però rimane sempre una delle squadre più blasonate e importanti d'Europa. Il costo lo vedete qui sopra, molto basso, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Se volete qualche dettaglio in più, trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio la parte finale. Prima però, se volete tutti i giorni vedere recensioni di maglie come questa, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti i giorni!